Buonasera e bentrovati, eccoci per un nuovo appuntamento con In Cammino. Oggi parliamo di fede, cultura e anche della creatività di tante diocesi in giro per l'Italia che hanno messo in cartellone, è proprio il caso di dirlo, un festival dedicato allo spirito e alla spiritualità. Ne parliamo dopo la sigla. E diamo il benvenuto nei nostri studi a Monsignor Andrea Migliavacca, vescovo della diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro. Bentrovata eccellenza qua da noi a Roma. Buonasera a lei e a tutti quelli che ci ascoltano. Ci eravamo conosciuti online con un collegamento da remoto, oggi abbiamo la fortuna di conoscerla anche dal vivo e con un altro collegamento che viene a raccontare di un'altra esperienza. E andiamo a Milano, c'è Monsignor Luca Bressa, ben trovato. Monsignor Luca, Don Luca, ben trovato. Buonasera a tutti voi, tutto bene. Vicario Episcopale dell'Arcidiocesi di Milano. Perché questi due ospiti e perché queste due diocesi? Perché hanno in comune, come dicevo in apertura, la voglia di comunicare, di creare ponti attraverso il linguaggio dell'arte, dello spettacolo, della bellezza. E iniziamo con la diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro perché nello scorso mese di marzo ha proposto alla comunità il Festival dello Spirito. Monsignor Megnavacca, che cos'è il Festival dello Spirito? Insieme al Serra Club, al gruppo Almazen e con la nostra diocesi abbiamo pensato di organizzare alcuni weekend nel mese di marzo con l'intento di mostrare un volto della città di Arezzo e della diocesi che ha molti volti. La città ha il volto della giostra del Saracino, dei quartieri, ha il volto del Natale con i mercatini. Ma la città ha un'anima, una profondità. E allora volevamo creare occasioni perché la città, la gente, la comunità ritrovasse, scoprisse la profondità della vita, l'interiorità, la vita, la dimensione dello spirito che è vita. E allora una serie di occasioni che attraverso l'arte, la musica, l'incontro, la riflessione e la parola di Dio voleva offrire un approfondimento e un entrare dentro se stessi e un cogliere la ricchezza della vita. Ecco, questa è la presentazione del Festival dello Spirito di Arezzo. Andiamo a Milano. Luca Bressan, anche voi, un'esperienza che riecheggia un po' i temi di cui Monsignor Migliavacca ci raccontava adesso con un titolo particolare, Soul, quindi Anima, Festival della Spiritualità. Anche qui, qual è stato il bisogno di, in qualche modo, compilare, mettere in scena una proposta culturale di questo tipo? Il bisogno è nato dall'esperienza di Expo, quindi ormai quasi dieci anni fa, quando ci siamo accorti che comunque i tanti pubblici, i tanti popoli che abitano in una città come Milano, che è abitata da studenti, da visitatori, da gente che ci lavora, dalla finanza, anche da tanti poveri, perché anche gli invisibili sono parecchi che abitano in Milano. L'idea è che abbiamo visto che questi pubblici ci seguivano, allo stesso tempo chiedevano di essere legati insieme, di capire che tutti sono Milano. E allora ci è venuta questa idea, poi acuita dalla pandemia, perché non immaginare effettivamente in una città che ha tanti festival, tanti momenti, ecco, tante occasioni per correre, invece un momento in cui ci si fermasse, ci si contemplasse, come diceva l'arcivescovo a presentarla, ma presentandola si facesse un po' come la Madonnina che non guarda Milano in basso per benedire, ma guarda in alto per attrarre, per dire effettivamente il segreto è lassù. Don Luca, tra l'altro siamo venendo delle immagini suggestive, ecco, a proposito di Madonnina, insomma, le terrazze del Duomo di Milano che sono state una delle location incredibili. L'abbiamo celebrato anche senza dichiararlo due domeniche prima di Pasqua, la quarta domenica di cinque giorni prima della quarta domenica di Quaresima e la domenica mattina abbiamo accolto il sole, aspettato il sole tra le guglie dell'uomo, il sole nascente. Don Andrea Migliavacca, anche Arezzo ha la storia, l'arte, la fede, la bellezza che già da sé indica un percorso alla chiesa di Arezzo, ma a tutti gli aretini e chi passa di lì. Qual era lo scopo, diciamo, iniziale, la scintilla che c'è stata per far partire la macchina poi del Festival dello Spirito? Chi volevate accompagnare, chi volevate raggiungere? Noi volevamo incontrare, abbiamo cercato di incontrare la vita della gente, di chiunque, credenti e non credenti, giovani e anziani, chi vive la vita della città perché ci abita e chi magari la visita come turista e come esploratore della città. Dunque, una varietà di proposte che volevano intercettare e cogliere dimensioni ed esperienze differenti, però con l'intento di avviare un dialogo. E allora, per fare qualche esempio, io direi il cuore lo abbiamo vissuto proprio all'inizio di queste giornate con l'ascolto della parola di Dio. Abbiamo, iniziando un pomeriggio e poi proseguendo in tutta la notte, letto in una chiesa, San Michele, tutto il Nuovo Testamento. Abbiamo anche un servizio poi che racconta proprio questo momento inaugurale. E questo voleva indicare le ragioni di questo Festival dello Spirito che è anzitutto aiutarci a metterci in ascolto di quella dimensione spirituale che è la parola di Dio, ma poi c'è il percorso dell'arte, quindi pensiamo San Francesco con Piero della Francesca e con il ciclo della Vera Croce. La cattedrale dove abbiamo vissuto due intensi momenti, uno con Monsignor Frisina e con tutti i cori delle parrocchie della Diocesi in una bellissima serata di concerto che ha coinvolto tutti e un'altra serata con Beppe Dati, cantautore, paroliero italiano e con uno spettacolo dal titolo Il mio Gesù che ha toccato il cuore perché non solo ha rappresentato con l'arte musicale la figura di Gesù, ma ha aiutato ad incontrarlo, a metterci in ascolto. Stupore? Qual è stata la sensazione, credo sia stato lo stupore, di chi magari ha accolto questa iniziativa? C'era bisogno di un festival per parlare di spirito? C'era bisogno di focalizzare in qualche modo l'attenzione con una grande manifestazione per tornare al vero senso di cosa significa respirare lo spirito? C'è la vita ordinaria delle nostre comunità ed è il cuore della vita di Chiesa, della vita di fede e c'è una quotidianità, potremmo dire, che è nella liturgia, nell'ascolto della parola, nella carità, nella vita della comunità che ci accompagna e di questo noi vogliamo avere cura, promuovere e cogliere l'intensità che ci offre. Però è vero che alcune esperienze che assumono il tono di una straordinarietà aiutano a portare l'attenzione e allora questo volevamo fare, cioè una straordinarietà di eventi per cogliere l'attenzione, per aprire un dialogo e per entrare poi nella quotidianità e poi da lì partono cammini che nella vita delle nostre comunità possono essere accompagnati. Don Luca Bressan, abbiamo visto le immagini dell'alba dalle terrazze del Duomo di Milano, ma anche Milano è stata abitata da Sol, questo festival della spiritualità. Avete cercato l'anima di Milano? Sì, continuando anche con l'esperienza proprio bella di Arezzo, l'idea era di contaminare gli spazi, per cui ad esempio abbiamo abitato le cattedrali, la cattedrale ma anche le basiliche che ci sono state lasciate dalla storia, le basiliche che risalgono ad Ambrogio, con discorsi anche molto moderni, magari invitando anche chi non crede o chi professa altre religioni a confrontarsi appunto con le radici cristiane. E poi abbiamo chiesto ai luoghi che fanno cultura come la Triennale, il Piccolo Teatro, la Fondazione Feltrinelli di ospitarci con discorsi che magari vengono fatti meno di frequente o per addetti ai lavori, invece è effettivamente portare la gente a discutere su che cos'è, ciò che ci unisce quest'anno come tema, abbiamo scelto la meraviglia, quindi ciò che ci stupisce sia in positivo che in negativo e come da questo stupore si riconoscono le radici effettivamente del senso della vita e quindi l'anima di Milano e della sua storia. Questo, Don Luca, è anche un esercizio per la Chiesa stessa, per i promotori di un evento come questo, nell'andare a ricercare, in qualche modo a fare chiarezza su i carismi, se vogliamo, da trasmettere, da comunicare, per creare ponti, ponti di dialogo, per veramente riuscire a parlare con tutti? Sì, soprattutto la cosa che ci ha stupito è che c'è anche molta attesa, ad esempio con l'ente col piccolo teatro abbiamo subito lavorato insieme, ci hanno aiutato a costruire l'evento finale, l'abbiamo ambientato nella basilica di San Lorenzo alle Colonne, una basilica del VII secolo, dove Popolizio, che era un attore che in quel momento andava in scena proprio al piccolo, si è prestato per leggere brani tratti dalle confessioni che veniva accompagnati dai canti di Tese, è bastata davvero una semplice lettura di questi brani e un contesto musicale per interiorizzare, tutto questo è cambiato, oppure sulle guglia dell'uomo con il violoncellista giapponese che ci aiutava a interiorizzare, in questo caso abbiamo letto poeti contemporanei che ci raccontavano il senso della scoperta dell'alba e alla fine l'arcivescovo che è intervenuto aiutandoci a comprendere. Don Andrea Migliavacca, è bello questo ruolo di mediazione che in qualche modo attraverso questi festival la Chiesa fa? Certamente, è una mediazione credo che ci fa fare, l'esperienza dell'ascolto, anzitutto è una Chiesa che ascolta, è quello a cui anche Papa Francesco ci sta invitando attraverso il cammino sinodale e allora essere intermediari vuol dire ascoltare la comunità, ascoltare la vita del mondo di oggi, la vita della gente e attraverso anche l'arte, attraverso l'incontro, il dialogo, mettendoci anche in dialogo con le tematiche del mondo di oggi, abbiamo parlato per esempio di pace in uno degli incontri del festival, la dimensione di ascolto consente di essere in cammino, di cogliere le attese, le domande della gente, ma di cogliere anche l'opera dello spirito che già è ricca e feconda nel cuore delle persone e poi c'è una parola che vogliamo portare, testimoniare anzitutto ed è la parola di Dio e tutto quello che la vita della Chiesa rende vivo, concretizza della parola di Dio, allora è in questo dialogo che si gioca un metterci in crescita, in cammino condiviso e quindi l'ascoltare che diventa essere intermediari. Ci fermiamo solo per un attimo, dopo la pubblicità vi portiamo con le immagini proprio al momento inaugurale del Festival dello Spirito di Arezzo, con questa lettura non stop, notte compresa del Nuovo Testamento, dopo la pubblicità. Ben trovati con Monsignor Andrea Migliavacca, Vescovo di Arezzo, Cortona Sansepolcro e con Monsignor Luca Bressan, Vicare Episcopale della Cidiocesi di Milano, stiamo raccontando due manifestazioni, due festival dedicate allo spirito, il Festival dello Spirito di Arezzo è il ESOL Festival della Spiritualità che ha animato l'Arcidiocesi di Milano anche qui nello scorso mese di marzo, per capire quanto è importante anche per una chiesa locale, per una diocesi, proporre iniziative del genere per creare ponti anche con chi non crede, per trovare dei punti di contatto sui temi che fanno crescere una comunità dal punto di vista artistico e culturale. E noi siamo andati a verificare in qualche modo, a capire come funzionava il Festival dello Spirito di Arezzo, era il 2 marzo, siamo andati proprio all'apertura, in quei minuti iniziava una lettura non stop, integrale, diciamo così, del Nuovo Testamento. Vediamo come è andata. Ci troviamo ad Arezzo, nella chiesa di San Michele, nel Centro Storico di Arezzo, iniziato da pochi istanti il Festival dello Spirito, organizzato da Serra Club Arezzo, Almasen, diocesi di Arezzo, Cortone e Sansepolcro, tutte le varie componenti della città che si alterneranno in una maratona di lettura del testo sacro del Nuovo Testamento. Diciamo la staffetta, questa maratona è iniziata alle ore 15, sono 243 lettori che si alterneranno notte e giorno interrottamente fino a domani, domenica 3 marzo, orientativamente intorno alle 18, quando si concluderà poi con l'Apocalisse. In verità, io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno del Cielo. Devo dire che mi sono emozionato. Io ho letto il brano Matteo 18, il brano in cui Gesù ci ricorda quello che dobbiamo fare al cospetto dei bambini. Io vengo dal mondo del teatro, dove fin da bambino sono stato abituato a interpretare la parola di grandi scrittori. La parola invece del Nuovo Testamento o dell'Antico Testamento non la si interpreta, la si ascolta, la si vive, la si percepisce come carne. Quindi è un'esperienza per me davvero particolare. Mi sento in cammino, è un'avventura quella della fede che costruisco di giorno in giorno a volte mi diminuisce, a volte accresce. È carne appunto in movimento. È dare testimonianza della parola, del nostro essere cristiani e diciamo di vivere la quotidianità con la gioia dello spirito. Una scossa profonda e una grande felicità. Il Nuovo Testamento è la rivelazione. È Dio che si è fatto carne. La lettura della parola arriva dentro l'anima della gente. Signor Migliavacca, è interessante che questi venti giorni di Festival dello Spirito siano iniziati con una lettura integrale del Nuovo Testamento che sulla carta potrebbe sembrare quanto di più, passi il termine, pesante per alcuni, magari per i giovani. Io la immagino come una grande semina, cioè iniziare questo Festival dello Spirito con questa grande semina che è la parola di Dio. Ci ricorda Isaia 55, come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato e fecondato la terra, così è della parola. E allora la preoccupazione non era avere un grande pubblico, ma seminare la parola, portare la parola, proclamarla. E questo ha coinvolto tanti lettori, come abbiamo ascoltato, ha coinvolto le istituzioni, le associazioni, i gruppi, le parrocchie, ma anche i giovani, gli scout, l'azione cattolica, cioè realtà diverse che soprattutto i giovani nella notte, perché è più facile per loro esserci e proclamare la parola in quelle ore piccole. Bene, una grande semina che voleva preparare il terreno ad ascoltare quella parola che entra nella vita e per noi è stato molto significativo. Don Luca, Bressan, nuove vie anche per evangelizzare, siamo in un percorso in cui la Chiesa italiana e anche la Chiesa universale, il cammino sinodale, si sta interrogando anche su nuovi modi per raggiungere, far capire chi siamo, che cos'è che si vuole fare attraverso l'evangelizzazione, l'anno della preghiera che apre all'anno santo, insomma sono tanti gli stimoli che eventi come questi possono portare. Sicuramente, come diceva il Vescovo di Arezzo, penso che innanzitutto noi come Chiesa abbiamo bisogno di lasciarci stupire da questi nuovi modi e di accorgerci che tanti magari li avevamo già anche impiegati in parte ma non ne avevamo capito le potenzialità, per cui davvero è interessante vedere come basta, come diceva ad esempio l'assessore al turismo del Comune di Milano introdurre un registro che ferma il tempo in una città caotica come Milano, che effettivamente anche gesti molto semplici riprendono a parlare, riprendono anche la loro capacità di trasfigurare, per cui ci si riappropria ad esempio di tesori che abbiamo a partire dall'arte che abita le nostre Chiese e che spesso non guardiamo più, non contempliamo più. Oppure ci riappropriamo effettivamente anche di alcune zone che sono state immaginate, magari anche nella ricostruzione post bellica della città, immaginate perché ci si incontrasse e non venivano più utilizzate in questo modo. Davvero lì ci si accorge che il compito che abbiamo in questo cambiamento d'epoca è non smettere di farci carne, o meglio ancora non smettere di farsi di aiutare che il verbo continui a farsi carne, di vedere che effettivamente questo verbo si fa carne grazie allo spirito del risorto che ci abita e noi che lo contempliamo. Infatti siamo rimasti stupiti dall'accoglienza del momento, di tutto il festival e anche dalla domanda continuata, che non sia solo un evento sporadico ma diventi un appuntamento che ci ritma la vita. Anche perché appunto, Mignia Vacca, l'anno prossimo c'è il giubileo e quindi è un'opportunità ancora maggiore per potersi raccontare, per poter dialogare. Certo potrà essere riproporre una seconda edizione del Festival dello Spirito, un'occasione per raccogliere i frutti o le esperienze del cammino sinodale che stiamo vivendo e entrare nell'anno del giubileo. Io direi con alcuni protagonisti e i protagonisti li vedrei nei giovani perché sono loro che dobbiamo cercare sempre di più di coinvolgere ma non al nostro servizio ma in una dinamica di partecipazione, di presenza, di ricchezze, di contributi nuovi che loro possono portare. Allora ecco mi auguro, penso, a una prossima edizione con i giovani protagonisti. Don Luca, 30 secondi finali. Serve coraggio da parte delle chiese locali in Italia per proporre anche questo tipo di linguaggio per, come dicevo appunto, per poter dialogare? È vero, più che coraggio serve secondo me pazienza e serenità perché uno si sente magari stanco dal fatto che deve continuare a vivere una pastorale che diventa più faticosa perché si vedono le forze che diminuiscono ma se uno si ferma un attimo si accorge che non per fare le nostre cose ma per immaginare eventi come un Festival della Spiritualità ci sono tante energie, c'è tanta disponibilità e alla fine ci si scopre più legati. Bellissimo. Io vi ringrazio per la vostra testimonianza e il vostro impegno in questo settore dell'arte, della bellezza e del dialogo. Ce n'è sempre tanto bisogno, si trovano veramente da questo stupore nascono poi tante strade e creatività per raggiungere più persone possibili. Grazie a Monsignor Luca Bressan, vicario episcopale dell'Arcidiocese di Milano e grazie a Monsignor Andrea Migliavacca, vescovo della Diocese di Arezzo, Cortona e Sansepolcro per essere stato con noi qui nei nostri studi. Noi ci ritroviamo domani sera come sempre con un'altra puntata di In Cammino a partire dalle 19.30. A presto e grazie.